Grazie, mi sono ciccato la battuta finale ma succede, continuo a fare monologhi, a fare personaggi, mi sono annoiato anch'io, rottamatemi per favore. No, povero Bersani è terrorizzato, è terrorizzato dalle alleanze, le alleanze, le alleanze sono una meraviglia del nostro paese, no? Siamo il paese delle alleanze, delle trattative, dell'inciucio. No, ma in America, avete visto che spettacolo le elezioni americane? Non hanno alleanze, ci sono i repubblicani, i democratici, fine. In America chi governa, se non fa bene il suo lavoro, rischia l'impeachment. In Italia se vuoi governare devi fare l'inciucment. Mi fate, ecco, guarda Obama, oggi Obama ha pianto, no? Era col suo staff, l'altro ha detto, è che non guarda che non possiamo fare. Eh? Cazzo ha detto? E lui gli ha detto, voi siete meglio di me. Quante volte noi guardando Bersani abbiamo pianto pensando, anche noi siamo meglio di te. Allora, Obama, nel discorso di martedì, Obama ha detto, siamo più della somma delle nostre parti, non siamo un insieme di stati rossi o blu, siamo un'unica nazione. Porta bella, che bella sta roba qua. Cosa può dire Monti? Non c'è più neanche una somma da queste parti. Non siamo un insieme di regioni rosse o blu, siamo solo in rosso. Noi non siamo una nazione, siamo più una catasta di gente malamente compattata. Ma noi come facciamo ad essere una nazione, obiettivamente? Com'è possibile? L'America è nata perché ha disobbettito gli inglesi, invece in Italia è nata perché abbiamo obbedito ai Savoia. Capite come cambia tutto. Noi ci siamo sentiti un popolo, guarda, solo nel 1970, quando abbiamo battuto la Germania a 4-3. Loro la Germania l'hanno battuta nel 45 perché erano già un popolo. Per la secessione, loro avevano Lincoln, noi avevamo Calderoli per la secessione. Ci sarà una differenza, no? Lincoln ha fatto una guerra civile per impedire agli stati del sud di andarsene. Calderoli ha fatto una guerra incivile per impedire al sud di restare. Non c'è niente da fare, siamo diversi. Loro hanno il mito della frontiera, andavano a cercare l'oro in Anasca. E tu mi direi, ma anche noi abbiamo il mito della frontiera. Andiamo in Svizzera a portare l'oro in Svizzera. Giusto. Cazzo, loro ci hanno portato topolino a noi. Noi gli abbiamo portato marchionne. Capite che siamo anche stronzi? No. Certo, noi non abbiamo fatto la guerra agli indiani. Meno male. Tra l'altro, magari avremmo perso. Ve lo immaginate il generale Caster italiano. Ma, ma, ma non, quanti sono? Cavalleggeri, ma. Guardate, magari già. Comandante! Salga in groppa, cazzo! Ma io sono già nel saloon, è buio. Buffalo Beer, John Wayne, Gary Cooper. Che forti che erano, eh? Da piccolo per me erano un mito. Non vedevo l'ora di diventare un grande per fare come loro. Cavalcare libero nella prateria, imbracciando un Winchester e sterminare un popolo di pacifici agricoltori. Cazzo, tutti i fascisti erano, altro che il Ford. Un po' fascisti, effettivamente. Ma qualche magagnuccia ce l'hanno anche loro. Però il coraggio, lo spirito dei pionieri gli è rimasto. Noi non ce l'abbiamo mai avuto questo spirito qua. Noi con Toro Seduto non avremmo combattuto. Noi con Toro Seduto probabilmente avremmo patteggiato. No, perché come Antonio Conte. Dunque, Antonio Conte oggi ha dovuto ripatteggiare per la conferenza stampa che aveva fatto sul patteggiamento. Cioè, lui ha fatto, gli avvocati hanno detto, proponiamo il patteggiamento. I giudici hanno detto no. Gli hanno dato la sentenza. Allora lui ha fatto la conferenza stampa e ha detto, il patteggiamento è agghiacciante. Allora gli hanno dato una multa e gli avvocati hanno detto, patteggiamo di nuovo. Mi metto lo scalpo. È agghiacciante. È agghiacciante, signori miei. Ho paura. Io ho paura. Che non è il tecnico d'antico come Carlo Conte. È agghiacciante. Che è un Carlo Conte. I miei avvocati avevano proposto un patteggiamento. Io avevo detto in conferenza stampa che il patteggiamento è un ricatto bello e buono. Allora la giustizia sportiva mi ha dato una multa perché le cose che ho detto sono la giustizia sportiva. Allora i miei avvocati mi hanno detto, patteggiamo. Patteggiamo? A 25 mila euro ce la caviamo. Allora io faccio una conferenza stampa dove dico che il patteggiamento sul patteggiamento è un ricatto bello e buono. Allora i miei avvocati mi dicono, patteggiamo? Signorine è agghiacciante quello che mi trattano. Agghiacciante. Io ho paura. Dispiace. Ma come mi trattano un signor Conte? Parliamo degli Stati Uniti d'America. Ma neanche gli indiani pelli e ossa li trattavano così. Io sono nell'occhio del ciclope. Scalpo. E' agghiacciante. Grazie Andrea. Andrea Zalone. Gli Stati Uniti hanno 51 stati ma una testa sola. Noi invece di Stato ne abbiamo uno ma di testa di minchia siamo pieni. In America dalla California alla Florida si sentono fratelli. Sono un'unica nazione. Noi come facciamo ad essere una nazione che ci odiamo ogni 20 chilometri ragazzi? Io sono di Genova. Per andare a Camogli passo 5 paesi dove si odiano uno dietro l'altro. Guarda cosa fa quello lì, guarda. Ha messo due pinoli in più nel pesto. Mamma mia. Questo qua è un mezzo d'olinquente. Venite via bambini, state lontani. Siamo così. A Pisa, sai Pisa con Livorno. Ma come lo fa il casciucco? Guarda che ha fatto quel pisciano. Mamma mia. Tutto così. Prendete le province. Per anni si è detto aboliamo le province, no? Aboliamo i costi, aboliamo tutti d'accordo. Poi quando le hanno ridotte, ma nemmeno abolite, ridotte, perché vorrebbero portarle da 86 a 51. Le hanno portate, Gad le hanno già portate? Stanno per, stanno per. Gad Lerner, fate un applauso a Gad Lerner, che è un grande. Da 86 stanno per portarle a 51. Eh, da nord a sud, è scoppiata una rivolta. Il presidente della provincia di Treviso ha detto, c'è un golpe. Quello di Avellino ha detto, voi non ci stiamo. Quello di Monza, eh, abbiamo un dialetto, non ci arrenderemo. Ma come avete un dialetto, non vi arrenderemo? Vogliono abolire le province, mica le pronunce. Ma vedi che... Cioè, il sindaco di Prato, scusa, il sindaco di Prato che dovrebbe accorparsi con Firenze, non ho detto Chernobyl, con Firenze. La città d'arte nel mondo si è seduto su un water e ha ricevuto i giornalisti e ha detto, è una vergogna istituzionale, me lo fate vedere. Guardalo qua. Si è incatenato al water con i rotoloni regina. Ma, beh, cosa pensa di fare? Che gesto ha fatto? Vi ricordate i grandi gesti di protesta in Piazza Tiena Men, lo studente davanti al car armato che si spostava? Ve lo ricordate? E gli atleti a Città del Messico col pugno chiuso, ve lo ricordate? Martin Luther King che dice, ho fatto un sogno. Questo qua cosa dice? Ho fatto un bisogno. Cosa fa questo qui? Non riusciamo, ma nemmeno le province riusciamo ad accorpare. Non ci fidiamo più di nessuno. Nemmeno chi abita a 10 chilometri da noi. Noi non ci fidiamo più. Non ci fidiamo della politica, dei giornali, della televisione, degli arbitri, dei guardaline. Noi non ci fidiamo dello Stato. Lo Stato non si fida di noi. Noi non ci fidiamo dello Stato. Lo Stato non si fida di noi perché noi evadiamo le tasse. Noi non ci fidiamo dello Stato perché i politici rubano i nostri soldi. Lo capite? Bersani non si fida di Casini, che non si fida di Vendola, che non si fida di Grillo, che non si fida dei grillini, che si fidano dei giornalisti, che non si fidano di Grillo, che però si fida di Di Pietro. E anche io mi fidavo di Di Pietro. Perché Di Pietro io l'ho votato nel 98. Però, Di Pietro, se gestisci per anni i finanziamenti pubblici solo con tua moglie e una ragioniera, se balbetti sulle tue proprietà quando ti intervistano, se dimentichi di aver ricevuto in regalo un miliardo di lire, allora io non mi fido più nemmeno di te. Quando ero piccolo, mia nonna una volta mi ha regalato una sterlina d'oro. Io me la ricordo, ragazzi. Se fosse arrivata una contessa e mi avesse dato un miliardo di lire, poi sono genovese, chi cazzo se lo dimentichi? Allora, la fiducia bisogna guadagnarsela. Io ci sono, io sono aperto, io sono qua, dai, fammi vedere. Io non so più di chi avere fiducia, forse c'è rimasto un uomo, non lo so, forse, forse, dico almeno fino a maggio, forse uno c'è rimasto.